e lampade riscaldanti che sono entrambi i temi che hanno bisogno di un approfondimento progettuale perché è proprio in questi temi, in questi corpi esterni che una progettazione di dettaglio potrebbe fornire degli esiti positivi rispetto ad avere delle semplici lampade posizionate a parete. Quindi per la canonica invece è stato previsto una possibilità di valorizzazione del bene attualmente la canonica ha una parte che è utilizzata dalle associazioni locali e il resto che è in disuso, in stato di quasi abbandono. Il progetto ha previsto il recupero, quindi una parte che tra l'altro è quella nel miglior stato di mantenimento può rimanere diciamo alle associazioni locali. L'altra parte è stata prevista sia una abitazione per il Paracoc sia una riqualificazione di una parte del corpo principale ad uso an asilo e nido. Per quel che riguarda il parco la valorizzazione è data dal maggior sfruttamento dell'area per la fruibilità da maggior numero di persone. Quindi attualmente c'è un grande parco con un campo da calcio messo lì alla bene in meglio e quindi è stato previsto la suddivisione in più spazi utilizzabili dal punto di vista anche sportivo proprio nell'ottica di quello che diceva Don Mazzi nell'intervista che abbiamo riportato prima di spazi che diventino spazi di aggregazione, che ritornino e anzi siano sempre di più perché lo sono, lo sono, sono sempre stati spazi di aggregazione e di divertimento. Dal punto di vista delle modalità di intervento previste per le murature perimetrali è stata prevista la rimozione del terreno che incassa la muratura fino all'imposta della fondazione protezione della muratura ipogea con una strollatura di malta. Per quel che riguarda e per il recupero delle murature il riempimento dello scavo a contorno con dei ciotoli per evitare le risalite dell'acqua. Per le superfici esterne sotto i due metri di altezza l'asportazione completa degli intonici esistenti composti da malte cementizie, applicazione di rinzaffo con malta porosità controllata, rasatura con un livellante minerale a base di calce naturale, bianca con granulometria pari a 1,4. Questi comunque sono aspetti che poi affronteremo nel pomeriggio tramite i tecnici. Per le superfici sotto i metri di due non mi dilungo, tanto lì saranno ben affrontati successivamente. L'isolamento è stato, per questa tipologia di edificio si è pensato di agire sia internamente che esternamente, poiché esternamente l'edificio non presenta decorazioni ma tutt'altro, anzi presenta parecchie distorsioni avvenute nel tempo, per cui si è pensato di intervenire sia attraverso un intonaco termoisolante esterno di uno spessore pur ridotto di 4-5 centimetri e poi attraverso le normali tecniche di eliminazione dei punti termici e di utilizzo dei nuovi serramenti e quant'altro. Per quel che riguarda gli impianti è stata fatta una scelta di sfruttare sia la geotermia attraverso la pompa di calore che i pannelli fotovoltaici. Questo perché tutto l'impianto in questo modo riuscirebbe a viaggiare alla stessa temperatura e quindi si riuscirebbe a sfruttare tutte le risorse rinnovabili per poi dedicare parte di queste risorse al riscaldamento stesso della chiesa. L'impianto di riscaldamento è stato in questo caso scelto soprattutto per la porzione che riguarda l'abitazione e l'asilo in nido, un impianto di riscaldamento a pavimento che è ottimale per questa funzione. Il riscaldamento della chiesa abbiamo già fatto qualche accenno prima, ovviamente il riscaldamento pavimento che ben si integra alla geotermia tra l'altro che è prevista per questo impianto è l'ideale come metodologia di riscaldamento per le chiese perché ha un basso shock termico e bassa movimentazione dell'aria. Sono stati previsti dei pannelli solari per la produzione di acqua calda, ovviamente lampade a basso consumo e sia per le aree esterne che per la chiesa. L'impianto fotovoltaico che è il tema che più ci riguarda come architetti da un certo punto di vista soprattutto nell'ottica dell'impatto ambientale che si ha su questi beni storici e quindi di valore di alto valore. L'impianto fotovoltaico previsto in questa soluzione è quello dell'utilizzo di due tipologie di impianti, a vetrate e impianto amorfo. È stato previsto un pergolato coperto con vetrate fotovoltaiche sopra l'area, una piccola ristorazione che c'è all'interno del parco e un impianto invece amorfo sopra uno dei campi coperti che adesso andremo a vedere. Diciamo questa era la situazione esistente con i circoli locali, la canonica, la chiesa l'oratorio e questa è la situazione di progetto dove appunto la vecchia canonica è stata suddivisa in un asilo nido e una nuova canonica pur ridotta con la presenza dell'abitazione del parco. I circoli locali è stata prevista una progettazione di un percorso ludico e di un pergolato per l'area di ristorazione. Grazie. Grazie.